Bene, bene, bene. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie soprattutto a professore Giuseppe Attardi e a Roberto Cornelli che sono con noi. Tra l'altro, Roberto Giuseppe Attardi è professore di informatica all'Università di Pisa e lo ringrazio tantissimo. Roberto Cornelli, come forse voi sapete, l'ATAC collabora strettamente con noi anche nell'impostazione stessa della scuola e stiamo progettando anche per l'anno prossimo, stiamo lavorando assieme passo passo per cercare di far vivere queste esperienze nel modo migliore possibile. L'argomento che affrontiamo oggi è un argomento di enorme riluppanza, dove per il presente è facilmente prevedibile che lo sarà ancora di più nel prossimo futuro. Il titolo che abbiamo dato è il seguente sicurezza e trasparenza o democrazia della sorveglianza? Le questioni sono assai evidenti, devo dire che il tema è uscito anche ieri, l'altro ieri, come voi ricordate bene, insomma, si è parlato della società della sicurezza, qualcosa che è emerso, che è venuto avanti con grande forza su cui un po' tutti stiamo ragionando e com'è intuitivo questo tema è legato da una parte all'agitazione di chi fa di questa questione prioritaria, ma dall'altra parte è legato anche a tutte le possibilità nuove, uso il termine possibilità fra virgolette, insomma, che sono connesse all'enorme sviluppo dell'intelligenza artificiale. Questo è il punto. Si sta davvero entrando in un scenario completamente nuovo. Che sviluppo avrà questo per la vita dei cittadini, per la democrazia? Sono enormi questioni. Devo dire che in Casa della Cultura ne abbiamo discusso molto anche nei mesi scorsi, partendo dal libro di Sosania Zuboff. Lo faccio il momento perché proprio in più occasioni siamo tornati su quel libro che stesso reputo un libro di grande importanza, perché ha posto in modo sistematico alcune questioni di fondo del futuro. Quindi stiamo cercando di ragionarci, di attrezzarci per capire un attimo quello che sta accadendo, dove stiamo andando. È una questione decisiva. Cominciamo quindi col professor Giuseppe Attardi, con noi, che ovviamente si trae elementi decisivi per affrontare dal punto di vista di chi sta lavorando sull'intelligenza artificiale. A lei la parola, professore Attardi. Grazie ancora per essere con noi. Grazie a tutti. Buongiorno. Io oggi riprendo alcuni temi che avevo già illustrato più di un anno fa, diciamo proprio lì da voi alla Casa della Cultura, intitolato La deriva della tech economy. E oggi qui il tema è stato ampliato, mettendo appunto a fuoco anche le questioni della trasparenza, della sicurezza. Ma io mi rimango concentrato sulla parte, diciamo, della democrazia e della sorveglianza, anzi se vogliamo del capitalismo della sorveglianza, come quello citato dall'autrice appena citata, Susanna Zupov. Allora, partiamo dalla prima considerazione, che il digitale è costituito una rivoluzione, anzi ben tre rivoluzioni, e che hanno portato una serie di benefici, tra i quali sicuramente la possibilità di avere maggiore libertà da filtri, da censure, maggiore uguaglianza, tutti quanti hanno le stesse opportunità, eliminazione di intermediazioni e parassitismi, allargamento della democrazia con una maggiore partecipazione, maggiore trasparenza. Inoltre, la diffusione del sapere che la rete può fornire costituisce una forma di arricchimento delle persone con la possibilità di accedere a questa conoscenza e ai servizi che consentono di utilizzarla. Questi erano i benefici anticipati e le aspettative che tutti avevano dal digitale e dalla rete. In qualche modo, nell'ultimo decennio, qualcosa è andato storto, nel senso che gli intermediari sono diventati sempre più potenti, sempre più concentrati in poche mani e in grado di condizionare a questo punto individui e società. Questo è il problema di cui ci troviamo a discutere oggi, direi, in questi giorni. Questo è un articolo che lo metteva in evidenza del New York Times, come diceva appunto, il decennio in cui la tecnologia ha perso il suo percorso, la sua strada. Ed è importante ricordare che la tecnologia cresce ad una velocità così esponenziale. L'abbiamo visto appunto nella diffusione dei personal computer, ma anche nella diffusione della rete. E tutto è legato anche a un principio che è collegato alla nostra capacità fondamentale, che è la legge di Zepp, che è la curva della popolarità, che assomiglia un po' alla distribuzione di Pareto che arriva in economia. È una legge esponenziale, per cui qui si vedono il numero di accessi o di visualizzazioni che ha un video a YouTube, che sono decrescenti esponenzialmente, nel senso che il primo ha il doppio di visibilità del secondo, eccetera. Questo si vede in tanti fenomeni, in tanti settori, tipo il numero di follower che ha un influencer, il numero di dischi che sono venduti da un cantante e così via. Il punto è che questa è una legge esponenziale, difficilissima da controllare, e questa forma, che è la forma decrescente, se la riflettiamo, diventa la curva dei guadagni. Cioè quelli che sono in cima alla prima lista diventano quelli che sono i primi che guadagnano, ma guadagni molto di più. È una curva, appunto, esponenziale o una power law, a seconda dei casi, che è impossibile da controllare. È difficile percepire il pericolo che viene da questi fenomeni. Lo psicologo, diciamo, economista Daniel Kahneman, premio Nobel, lo descrive in questo libro con la famosa metafora dello stagno di infee. Le infee si raddoppiano ogni giorno la loro copertura dello stagno, ci mettono 48 giorni a coprire lo stagno, quando è che lo stagno era coperto a metà? Allora, la risposta tipica che uno dovrebbe 24 giorni. No, non è vero, è il giorno prima. E dovremmo aver imparato proprio quest'anno, abbiamo visto un fenomeno esponenziale in cui ci siamo stati sottoposti, cioè la diffusione del virus. Questa è la curva, quindi se vedete quello che succedeva nei primi mesi dell'anno scorso, sembrava che ci fosse una crescita, ma non gravissima. Poco dopo esplosa l'esponenziale. L'esponenziale cresce, si manifesta e a quel punto è troppo tardi. Questi sono gli effetti della concentrazione di potere delle idee, fanno sì che noi tutti siamo di fatto in grado soltanto di affidarci a un numero molto limitato di servizi. Per esempio, se io chiedo quanti sono i motori di ricerca che voi conoscete, probabilmente la risposta sarà uno, due al massimo. Quanti social network conoscete? Anche lì uno, due al massimo. Quanti negozi online utilizzate? Anche lì probabilmente uno, due. Quanti servizi video conoscete? Anche lì uno, due. Questa è semplicemente una capacità della nostra mente limitata di memorizzare cose. Ne conserviamo soltanto poche perché non abbiamo spazio e quindi di ciascuno dei servizi ne teniamo a mente uno soltanto. E questo ha l'effetto di aumentare a dismisura la concentrazione. Non solo, ma quelle che le aziende che crescono a dismisura a questo punto, per continuare a crescere, occupano altri spazi, quindi invadono altri settori. Quindi Google partito da essere un motore di ricerca, è diventato un servizio video, un servizio cloud. Amazon vendeva libri, poi merci, cibo cloud, adesso fa anche servizi sanitari. E questo provoca delle distorsioni a termini economici, per esempio per il fatto che un servizio può essere finanziato con i guadagni in un altro, specchio all'inizio quando non è economicamente sostenibile. Poi si acquisiscono potenziali concorrenti, si pongono ostacoli a chi può entrare in quel settore. Questo viene spiegato molto bene, cioè i meccanismi, diciamo, del digitale sono spiegati molto bene nel libro di Stefano Quintarelli, capitalismo immateriale, che mette a confronto la situazione del capitalismo, diciamo, del sistema di produzione tradizionale, quindi materiali, con quelli immateriali. Quindi, mentre la produzione materiale fisica richiede grossi costi, quelli immateriali ne hanno molto di meno. Ma la cosa più drastica è sul fatto che tantissime cose negli immateriali non costano niente, costano proprio zero. Quindi riprodurre, archiviare, trasferire, costa veramente niente. La manipolazione diventa automatica, i servizi operano 24 ore su 24, mentre non c'è più problema della mano d'opera che ha dei turni, e l'escludibilità diventa marginale, nel senso che è difficile escludere altri da quello che si fa. E questo meccanismo è alla base di quello che appunto Susanna Zuboff chiama il capitalismo di sorveglianza, di cui non mi addentro, visto che ne avete già parlato, ma sostanzialmente è un processo che lei descrive come quello in cui quello che ha messo in vendita non sono delle merci, ma sono gli stessi dati personali delle persone. E queste attività sono svolte da aziende che offrono servizi molto utili, molto comodi, in forma gratuita, e producono questo lo scambio, diciamo, tra servizio gratuito e l'acquisizione dei dati delle persone. E spesso ciò avviene all'insaputa delle persone. Il problema è che questi dati vengono spesso usati non soltanto per fare dei guadagni, ma anche per influenzare le scelte. Quindi questo è responsabile, diciamo, di questa crescita che abbiamo visto negli anni scorsi delle più grosse aziende tecnologiche nel mondo. Questo probabilmente, secondo la Zubo, diventerà ancora più invadente quando avremo dei sensori che ci collegano costantemente alla rete. Pochi giorni fa è uscito su Internazionale proprio un altro intervento, sempre di Susana, in cui spiega appunto il fatto che i governi hanno permesso alle grandi aziende di accumulare un potere enorme e che oggi mette in pericolo la democrazia. Quindi il capitalismo di sorveglianza, secondo la Zubo, mette in pericolo la stessa democrazia. Lei però conclude in maniera abbastanza ottimistica dicendo che ci sono dei rimedi e bisogna però fare in fretta. I tre rimedi che suggerisce in questo articolo sono di mettere fine all'attività di raccolta dati, usati per la sorveglienza commerciale, e introdurre dei sistemi giuridici che vietino appunto questo sfruttamento su scala sistematica dell'esperienza umana. Occorrono, secondo lei, appunto leggi che leghiano la raccolta dei dati ai diritti fondamentali dei cittadini e l'uso dei servizi pubblici, quelli che sono i servizi offerti attraverso queste piattaforme che sono però finalizzati all'esigenza, a servire alle esigenze delle persone e delle comunità. Eliminare poi gli incentivi finanziari che permettono, diciamo, la nascita di questa economia di sorveglianza. Quindi sono obiettivi, sono rimedi sostanzialmente condivisibili in gran parte, se non che sono molto difficilmente, secondo me, ottenibili. Per spiegare un attimo che cosa si intende questa, perché questo, per, diciamo, quali sono i meccanismi sottostanti a questo tipo di attività, io presento questo lucido che spiega appunto come funziona quella che io chiamo, o alcuni altri chiamano, la platform economy, quindi il capitalismo di sorveglianza si basa su delle aziende che svolgono un'attività di piattaforme. Quindi le piattaforme sono in realtà degli intermediari in cui offrono dei servizi agli utenti e però quello che loro vendono non è il servizio. Quello che vendono è, vendono a dei venditori, quindi a terzi, le informazioni riguardo alle caratteristiche, alle preferenze degli utenti stessi. Quindi il flusso, diciamo, di guadagni va dalle aziende che vendono prodotti e che fanno pubblicità sulle piattaforme piuttosto che dagli utenti che acquistano dei servizi. E questo, siccome questo meccanismo produce una grandissima concentrazione, questo produce un'esplosione dei profitti e l'obiettivo delle piattaforme diventa non tanto quello di fare un servizio, cioè diventa secondario, diciamo, fare un servizio che interessa, diciamo, di una certa caratteristica. Quello che importa è soprattutto riuscire a vendere, a massimizzare il tempo e le disponibilità di fare scelte di prodotti da parte degli utenti. Quindi si produce una distorsione, diciamo, perché due fenomeni, come diciamo, come si vede dalle frecce, il flusso di denari non corrisponde al flusso, allo scambio, diciamo, di attività di merci. Quindi gli effetti economici producono da questo meccanismo, producono delle diseguaglianze esorbitanti e crescenti che si avvertono non soltanto in ambito economico, ma si avvertono tra aziende, i grandi contro le piccole medie, tra i paesi, quelli che hanno appunto dispone di grandi aziende, possono sfruttare questa accumulazione di denaro per fare investimenti in nuove tecnologie, come si parlava, diciamo, di artificial intelligence. Non a caso i più grandi investitori in artificial intelligence sono gli Stati Uniti e la Cina, che sono i due luoghi dove si concentrano le grandi aziende di questo tipo. E tra lavoratori, per cui ci sono i lavoratori delle aziende high-tech, che sono privilegiati, guadagnano tantissimi soldi, hanno tutte le facilitazioni possibili, e i lavoratori della quasi-dita gig economy, che sono quelli che invece sono al servizio delle macchine, quindi quelli che operano dove le macchine non arrivano, cioè dove sono guidate dalle macchine, quindi i lavoratori, per esempio, della distribuzione. C'è un bellissimo film che descrive questo fenomeno, che si chiama Titolato Sorry We Missed You, di Ken Loach, in cui si descrive proprio questo degrado e questo sociale, economico, delle persone che vivono in questo tipo di economia. E c'è una scena molto toccante, che trovo molto toccante, che in questo ambito si dovrebbe toccare anche voi, in cui c'è una delle protagoniste, diciamo, del film che fa il lavoro di badante, che passa la giornata correndo di qua e di là, e arriva a un certo punto verso sera da una signora anziana di cui fa badante, arrivando in ritardo, e si scude, dice, ah, sono arrivata tardi, perché ho fatto questo, 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 sono un po' insalzato alle 5 di mattina. E la signora anziana, che quando lavorava era una sindacalista, dice, ma che fine ha fatto le otto ore di lavoro? La giornata di otto ore lavorative. Cosa quindi totalmente sconosciuta, le conquiste dei lavoratori del secolo scorso sono completamente dimenticate, nemmeno si pone la questione del fatto che esistono, che servono, che siano stati utili. E perché poi questo ha impatto sulla stampa? Cioè, Matt Stoll su The New York Times dice che le compagnie tecnologiche stanno distruggendo la democrazia e la stampa. Quindi, la concentrazione delle piattaforme e soprattutto della pubblicità, per cui, diciamo, le grandi piattaforme che fanno questi servizi non soltanto guadagnano dalla pubblicità, ma sono loro stessi che gestiscono il sistema pubblicitario, sono stessi che hanno delle aziende che svolgono un'attività di raccolta pubblicitaria. Quindi, controllano interamente, diciamo, tutto l'ecosistema. E quindi, si costruisce un'istruzione, diciamo, etico in cui, diciamo, l'informazione viene in qualche modo utilizzata o sfruttata per, come si diceva prima, per tenere le persone più attente, più collegate alla piattaforma piuttosto che fornire informazioni utili. E questo è un motivo per cui le fake news si diffondono, per esempio, perché siccome sono le cose più drastiche o più estreme, sono quelle che raccolgono più attenzione, sono quelle che vengono più facilmente, diciamo, fatte diffondere. E secondo Mazzoli c'è una colpa, diciamo, della politica in questo senso. Diciamo, negli anni 70 sono state rilassate le normative sull'antitrust per, diciamo, per miopia o per condicendenza o per altre ragioni che lui descrive nel suo libro. Questo è un recente intervento appunto in cui fa un'accusa proprio violenta, diciamo, ai politici degli anni 70-80, quindi Clinton e Obama, che hanno, diciamo, lasciato che alcuni monopoli si formassero e prendessero in mano l'economia. Quali sono gli effetti sociali? Allora, abbiamo visto negli ultimi, l'ultimo mese, diciamo, a gennale di quest'anno delle cose impensabili fino a poco tempo fa. Quindi, per esempio, è successo il 7 gennale e abbiamo visto che Trump è stato bandito da Twitter e da Facebook. Dopodiché ha tentato di lanciare un altro suo sistema di social, Parler, anche questo è stato bandito la sua volta dalla piattaforma Amazon dove funzionava. Quindi, che è successo? Queste aziende si prendono, diciamo, il diritto e si arrodano il diritto di decidere loro che è che ha diritto di parlare o no. Quindi, adesso non sto entrando sul fatto se abbiamo fatto bene o male, semplicemente hanno fatto una cosa che ritengo sia con quanto meno discutibile. e c'è chi dice che hanno diritto di farlo perché, diciamo, siccome loro sono aziende private e quindi sono guidate da quelli che loro definiscono loro stessi come termini di servizio, termo of service, loro hanno diritto di cancellare o di eliminare chi vogliono. Quindi, si arrodano di diritto di fare quello che farebbe un tribunale. Quindi, diventando un tribunale, avendo, diciamo, un'organizzazione di tipo sulla giustizia, acquisiscono un altro potere, diciamo, oltre a quello economico, un potere, in qualche modo, giudiziario sulla vita dei cittadini, sui loro, su giudicare i loro comportamenti e decidere come si devono comportare oppure no. Però, diciamo, questo, va tenuto presente che queste clausie di contrattuali sono asimmetriche, nel senso che non è che uno che li accetta è libero di accettarle o meno, perché se non li accetta viene escluso, viene messo in un limbo. Chi non partecipa a un social perde i contatti con i suoi amici. Quindi, è un servizio in cui non può fare a meno, quindi il fatto di che venga proposto, diciamo, o così o niente, rende, diciamo, una situazione di svantaggio i cittadini e quindi toglie alcuni diritti, per esempio, il diritto a una certa identità. Molto spesso uno usa il fatto, diciamo, la sua identità su Google o su Facebook per accedere ad altri servizi. Quella la perde. E queste decisioni sono state tentate, diciamo, in qualche modo di compensare, diciamo, Facebook, per esempio, sostiene che loro non si vogliono arrogare questo diritto, quindi hanno creato un oversight board di persone esterne che prendono queste decisioni, una specie di tribunale privato. Anche questo, però, non è molto in grado di agire o di decidere. Per esempio, proprio ieri, l'oversight board di Facebook ha deciso di rinviare la decisione sul caso di, sul bando di Trump. Quindi, neanche loro, non sanno molto bene che pesce pigliare. Allora, gli effetti, diciamo, di questo sono anche molto discutibili, perché finora le piattaforme hanno, in qualche modo, con un certo tipo di franchigia. Siccome offrono spazio per pubblicare i contenuti, loro sostengono, ma il problema c'è, noi non siamo colpevoli, non siamo responsabili, noi facciamo fare agli utenti la pubblicazione di ciò che vogliono. e, diciamo, controllare quello che dicono e quello che fanno sarebbe impossibile, la tecnologia non esiste. Vero o no? Allora, questo sicuramente era vero qualche anno fa, ma con l'avvento delle tecnologie come l'intelligenza artificiale, oggi è diventato possibile. Oggi Facebook, tutto quello che passa su Facebook viene passato attraverso sistemi di intelligenza artificiale che controllano uno per uno, fotogramma per fotogramma, quello che c'è dentro e decisano se, per esempio, questo è viola e copyright, se questo c'è una nudità, se ci sono altre cose che loro ritengono inappropriate. Quindi, l'intelligenza artificiale è tutto e quindi hanno un sistema completamente molto complesso e potente, diciamo, in termini di risorse di calcolo per vagliare costantemente tutto quello che viene sottoposto, diciamo, viene pubblicato da loro. Quindi, non è più vero che non possono essere in grado, diciamo, di vagliare i contenuti e lo fanno, in realtà abbiamo visto appena adesso che lo fanno, quindi si stanno smentendo loro stessi. Quindi questa assunzione di fondo che loro non erano responsabili valeva qualche tempo fa ma adesso non vale più. Quindi le cose vanno riviste. Ci sono anche effetti psicologici, diciamo, sulle persone, diciamo, che, diciamo, si divengono in qualche modo addicte, diciamo, a questo tipo di strumenti ed è un bellissimo film, anche questo, il Social Dilemma che illustra questi effetti psicologici sulle persone che non possono più fare a meno, quindi c'è un effetto proprio di droga e questo tipo di droga è dovuto al fatto che noi siamo mai talmente abituati ad utilizzare questi strumenti che non ne possiamo più fare a meno e purtroppo dall'effetto di una droga ci si libera non soltanto con delle leggi ma ci si legge prendendo le persone innanzitutto fargli capire che sono dei drogati, che è il problema più difficile e dopodiché convincele che devono in qualche modo curarsi e la cura non è mandare in prigione, la cura è attraverso come si fa per le droghe per spassare attraverso mezzi, strumenti sociali diciamo di scambio di esperienze con altre persone che hanno avuto le stesse esperienze e ne sono uscite. Quindi personalmente io ritengo che il vero problema cioè la fonte del problema non sia tanto il fatto che vengono venduti dati personali in realtà non è più così ma quello che succede è il fatto che tutti questi servizi sono gratis e basati sulla pubblicità quindi siamo diventati addicte a questi servizi perché ci sembrano talmente convenienti che non ne possiamo più fare a meno però questo ha fatto sì che il meccanismo è tale che quello che va massimizzato a questo punto non è tanto la qualità del servizio è importante anche quello ma diciamo per chi lo fornisce quello che conta è farci passare il più tempo possibile sulla piattaforma quindi quello che come dice la Zuboff la merce di scambio sono gli utenti e questo fenomeno diciamo che sappiamo bene è sempre avvenuto nel senso che se noi poniamo l'attenzione su un fenomeno siamo disattenti ad altri quindi se noi poniamo l'attenzione sul fatto che ci stanno offrendo delle cose molto belle guardiamo quelle non ci accorgiamo che nel frattempo queste cose fantasmagoriche sono semplicemente usate per distogliere la nostra attenzione a quello che sta avvenendo direttamente dietro le nostre spalle quindi ad esempio in questo quadro di Bosch si vede che il prestigiatore fa vedere delle cose meravigliose nel frattempo qualcuno sottrae il denaro dalle tasche di un spettatore e quindi in questo caso quello che ci sottraggono sono i dati la sovranità digitale diciamo dipendenti completamente da servizi forniti da aziende esterne la parità diciamo tra tutti e la possibilità di competere produce anche lo clima adesso stiamo c'è uno sbilanziamento totale anche non soltanto tra aziende ma anche tra regioni quindi i servizi e le piattaforme sono sostanzialmente in America e in Cina l'Europa è quasi completamente assente e in particolare diciamo quello che su cui tutti questi sistemi poggiano sono infrastrutture di cloud quindi Google Amazon eccetera hanno enormi piattaforme che sono costruite negli anni su cui girano soltanto i loro servizi ma poi vendono anche queste piattaforme a terzi quindi tutto il 60% del web gira su Amazon quindi tutta l'economia è appoggiata sulla piattaforma di questi servizi che sono cresciuti a partire diciamo dallo sfruttamento diciamo di quello che le persone fanno in rete il caso di Amazon è quello più eclatante perché sono partiti sono diventati sono cresciuti come aziende di commercio elettronico poi si sono lanciati nel cloud computing ne sono i primi nel cloud computing hanno lanciato i voice assistant e Alexa è il primo strumento prodotto su quel settore si sono lanciati sui video e adesso sono i secondi al mondo insomma e si stanno espandendo per esempio anche sui giornali ho comprato Washington Post i servizi sanitari sulla formazione stanno creando sistemi di formazione che competono con l'università i servizi di formazione pubblica allora ho visto che stiamo finendo passo alla conclusione quali sono le possibili soluzioni beh allora per gli informatici la soluzione è mettere nuova tecnologia purtroppo temo che qui la cosa non funzioni perché mettiamo tecnologia contro la tecnologia siamo in un ciclo sempre più complesso ci sono alternative ai servizi dei sociali commerciali sì ce ne sono alcuni sistemi decentralizzati sono stati proposti uno di questi dallo stesso Tim Berners-Lee che è stato un inventore del Google Web però sono molto molto limitati il problema esiste tant'è vero appunto che Tim Berners-Lee lo ha presentato diciamo in un articolo sul New York Times dicendo io ho inventato il World Wide Web e adesso bisogna aggiustarlo e la sua proposta è di mettere di consentire con il progetto Solio la possibilità degli utenti di mettere i loro dati in un posto diverso da quello delle piattaforme stesse però come dice la stessa Zuboff nel suo libro non è che questo cambi molto diciamo il fatto di possedere i propri dati non è che ti dia un particolare vantaggio quei dati non devono esistere quindi dice e sarebbe come se stessimo a discutere su quante ore un bambino possa lavorare anziché dire che i bambini non devono lavorare quindi una questione è un diritto è una questione diciamo come esercitare dei limiti a una cosa che sarebbe vietata quindi la capacità predittiva della soveglianza non si basa soltanto sull'accesso sui nostri dati ma anche su cose apparentemente banali per esempio quanti sono i punti esclamativi che uno scrive in un tweet su altre cose che non necessariamente sono dati personali sono cose diciamo che vengono raccolte in altra forma non solo quindi la mia proposta è molto drastica che quindi bisogna andare alla radice del problema cioè bisogna chiudere questo cioè sbloccare questo ciclo in cui gli utenti i dati degli utenti vengono usati per vendere agli utenti stessi a terzi attraverso la pubblicità quindi invece di e sarebbe il punto di svolta per diciamo secondo me ossia invece di fare sì che gli utenti ricevano servizi gratuitamente facendo vendendo facendosi vendere diciamo la loro attenzione alla pubblicità avrei una relazione diciamo più sana tra chi compra e chi vende quindi fare servizi che sono in abbonamento oppure in condonazione e ci sono esempi in cui questo ha funzionato quindi Wikipedia è un esempio pubblico di un servizio aperto a tutti che si sostiene con le donazioni oppure New York Times per esempio già soltanto l'anno scorso ha fatto un aumento del 48% dei suoi utili negli abbonamenti digitali quindi è possibile farlo quindi è possibile lanciarsi in attività in cui gli utenti apprezzano quel servizio e lo pagano direttamente la soluzione australiana la cito perché è stata discussa recentemente diciamo prima che Matt Stroll dice che l'economia digitale sta distruggendo il giornalismo beh cosa hanno fatto gli australiani hanno deciso di obbligare Google e Facebook a pagare il copyright quando viene esposto diciamo un link ai loro articoli Facebook si è ricitato ha detto che i link li mettono gli utenti quindi lui non ci può fare niente e quindi è stata la risposta loro è stata semplicemente di eliminare la visibilità di lì ci sono ma non sono fatti vedere agli utenti australiani che è una cosa abbastanza ridicola di tutto come diciamo ora c'è un'altra questione che non faccio tempo a discutere se volete ne parliamo dopo c'è la guerra dei cookies i cookies sono il meccanismo che consente a a un a un pubblicitario di sapere quali sono le cose che hanno interessato un utente quindi se un utente gira sul web e capita su un sito dove vendono racchette da tennis poco dopo mentre va su un altro sito gli appare la velocità delle racchette da tennis come mai questo è dovuto appunto ai tracking cookies Apple ha lanciato una guerra contro i tracking cookies e naturalmente contro le altre aziende big tech che li usano che in cui consente diciamo agli utenti di scegliere se utilizzare o meno quindi questo impedisce ai terzi come di poter sfruttare questa forma per lanciare e sviluppare le proprie pubblicità e Facebook naturalmente ha reagito in maniera molto violenta a questo Google ha reagito in un'altra maniera cioè dicendo benissimo in realtà non vendo più le specifiche sugli interessi singoli del singolo utente ma creo con un sistema di intelligenza artificiale quello che chiama Federated Learning of Cohorts cioè quindi costruisce dei profili di gruppi di persone con stesse caratteristiche quindi elimina diciamo l'identità dell'individuo e dice benissimo se voi volete far pubblicare le persone che interessano di sport per esempio che voi siete un produttore di racchette da tennis bene questa persona partecipa di questo gruppo di interessi e quindi non vendono più il prodotto utente diciamo il dato dell'utente quindi la battaglia sulla protezione dei dati utenti diventa un'arma spuntata perché non è più quello che sarà venduto saranno dati raccolti e aggregati e sull'aggregazione non c'è nessuno che impedisce attualmente di farlo ci sono norme europee che stanno intervenendo in qualche maniera non ho tempo di approfondire la domanda che ci poniamo che ripongo è se sono sufficienti Oreste Policino sostiene di no nel senso che bisogna in realtà ritornare alla questione sulla carta dei diritti cioè riprendere diciamo il diciamo lasciare questa idea del novismo digitale per cui tutto il libro tutto è libertà tutto quello che si fa in rete è aperto a qualunque utilizzo e tornare a costruire diciamo una carta di diritti ma la carta di diritti richiede che noi conosciamo quali sono questi diritti questo è un problema che è molto aperto faccio un esempio molto concreto avete sentito parlare di net neutrality neutralità della rete oggi è considerato un diritto ma fino a una decina quindicina di anni fa nemmeno si sapeva che cosa fosse tutti davano per scontato che diciamo su internet il traffico venisse gestito in maniera completamente indiscriminata quindi il traffico che faccio io quello che fa Google sarebbe esattamente trattato alla pari nessuno c'è dei privilegi bene è nata Jim Wu che tra l'altro adesso è diventato presidente della del communication commission con l'amministrazione Biden ha inventato il termine ha coniato il termine appunto di net neutrality a quel punto abbiamo capito cos'era nessuno se ne ha reso conto prima quindi è importante costruire questi concetti intorno ai quali poi costruiamo i diritti diciamo se quello concetto rappresenta un diritto poi difendiamo quel diritto una volta che abbiamo capito di cosa si tratta possiamo lavorarci sopra finché non ce l'abbiamo non riusciamo a farlo quindi concludendo cosa occorre fare mentre tutto occorre padroneggiare la tecnologia perché se no non la conosciamo bene non sappiamo neanche come funziona o come opera quali sono le possibili derive o le direzioni in cui evolve e poi occorre riequilibrare le forze di mercato perché chiaramente il mercato se tu lo lasci libero si muove nella direzione di massimizzare i profitti lasciando appunto totalmente da parte i diritti degli altri e quindi investire nel digitale pubblico serve diciamo nei paesi come i nostri le democrazie del welfare è l'unica alternativa è quella di avere ai grandi alle grandi aziende è di avere dei servizi diciamo gestiti dal pubblico per esempio una cloud nazionale gestita dalla pubblica amministrazione per la pubblica amministrazione sarebbe secondo me cruciale questo vuol dire anche recuperare autonomia e spazi di libertà naturalmente bisogna stare attenti perché siamo in fenomeni che hanno velocità di crescita esponenziale se tu ti distrai un attimo salta fuori qualcos'altro che distrugge tutto quindi qui questo ve lo salto concludo a questo punto rapidamente quindi le tre tecnologie general polpo dell'informatica i pc internet e l'artificial intelligence stanno portando stravolgimenti radicali nella società alcuni positivi di gran parte positivi ma anche alcuni negativi e quindi per affrontare questi problemi bisogna avere una conoscenza approfondita completa di tutte le loro sfaccettature e gli interventi che vanno fatti sono profondi non possono essere semplicemente basati su normative dell'ottocentesco diciamo le leggi antitrust che vanno inventate delle nuove vanno concepite vanno formalizzati nuovi diritti nuovi concetti nuovi diritti e sulla base di questi fondare delle nuove normative che consentono appunto di per esempio di equilibrare quello che è la crescita dell'economia che è dove è questa positiva con gli spazi la libertà diciamo dei cittadini stessi non possiamo confrontarci con i problemi globali con delle normative puramente locali cioè se l'Australia fa quella legge sui link ai giornali australiani naturalmente non risolve il problema e quindi occorre l'appello che faccio quindi è una elaborazione corale e multidisciplinare su queste tematiche per inventare delle soluzioni che siano durature e stabili e con questo è finito grazie a tutti dell'attenzione naturalmente siamo prontissimi a discutere con tutti alla fine della prossima presentazione grazie grazie a lei professore devo dire riuscito a fare una sintesi questioni enormi condensate in poco più di mezz'ora quindi complimenti vivissimi per la sintesi poi sono tante cose che valeva la pena di approfondire scavare vediamo se facciamo in tempo prego Roberto a te la parola grazie grazie molte devo complimentarmi anch'io con la splendida relazione del professor Attardi francamente ha fatto una relazione che ha tenuto assieme una lezione una lezione magistrale su un tema davvero su cui abbiamo bisogno di avere tante informazioni e discutere di più mi piace molto questo riferimento che ha fatto il professor Attardi alla costruzione di concetti che riguardano diritti di nuovi diritti perché se non abbiamo questa consapevolezza non sappiamo neanche che cosa richiedere che cosa fare in questo campo così fortemente in evoluzione io proprio perché questa relazione è stata molto molto ampia molto interessante e mi consente anche di togliere un po' di cose che avrei dovuto dire e di concentrarmi specificamente su un tema nel senso che c'è un profilo che questa evoluzione attiene diciamo così che riguarda i contenuti di ciò che viene postato e chi ne è responsabile un altro aspetto riguarda i copyright un aspetto che riguarda una nuova dipendenza del lavoro umano dalle macchine un altro aspetto che riguarda gli aspetti psicologici e sociali le ricadute gli impatti un altro aspetto ancora che riguarda la concentrazione della ricchezza e c'è un aspetto che è quello di cui vorrei occuparmi allora in questa relazione mia che riguarda proprio il rapporto tra libertà e potere cioè io vorrei concentrarmi in questo momento solo sul tema della sorveglianza proprio perché è forse il tema che nella relazione del professor Attardi è stato diciamo toccato implicitamente ma non esplicitamente e siccome io mi occupo sostanzialmente nella mia disciplina che è la criminologia di un tema che in Italia è veramente poco studiato che è quello delle polizie della sorveglianza delle politiche di controllo vorrei partire vediamo se riesco a mostrarvelo in maniera molto semplice vorrei partire da un'immagine un'immagine che scusate che ce la faccio velocemente eccola qua dovreste vederla è un'immagine postata su un social network da parte della città di Portsmouth nell'Ohio e sostanzialmente il messaggio della città dell'Ohio dice per favore smettete di lanciare bottiglie di birra ai droni sono proprietà della polizia del dipartimento di polizia e stanno conducendo la sorveglianza sulla proprietà per la vostra protezione vi ripeto smettete di abbattere i droni che svolgono attività antidroga e quindi è un messaggio diciamo ufficiale rivolto ai cittadini di Wayne Hill Wayne Hills che evidentemente vedendo i droni che vanno sopra la propria proprietà iniziano a tirare di tutto per abbatterli ora mi sono concentrato su questa immagine perché mi sembra interessante capire perché la prima domanda che io mi sono fatto è quale reazione intende veicolare questo messaggio ufficiale della città dell'Ohio io penso fondamentalmente due allora innanzitutto segnalando un possibile fraintendimento sulla natura del drone si intende rassicurare che l'attività di sorveglianza e quindi l'attività di raccolta di dati comportamentali di cittadini all'interno delle loro proprietà sono al servizio di una buona causa la vostra protezione attraverso l'attività antidroga il secondo messaggio è al contempo di stigmatizzazione di quel comportamento di chi tenta di abbattere col lancio di bottiglie dispositivi di proprietà della polizia e dunque quasi per divertimento mina la sicurezza collettiva ci sarebbe molto da dire già su questi due messaggi che secondo me veicola questo post ma la domanda più urgente che io penso dobbiamo farci è perché è possibile per un drone anche se di proprietà della polizia fare ciò che a un agente di polizia non sarebbe permesso vale a dire sorvegliare la vita privata di cittadini all'interno della loro proprietà in assenza di un sospetto di un mandato ma solo nell'ambito di un'ordinaria attività di controllo antidroga questa è la domanda secondo me cruciale e per rispondere a questa domanda io penso che occorra tener conto dell'intersezione di diverse tendenze che riguardano la relazione tra polizia e democrazia da un lato e quello che viene definito appunto capitalismo della sorveglianza dall'altro questo punto mi dovete scusare ma faccio un'incursione storica un'incursione storica che io ritengo sempre molto importante per comprendere concetti e fenomeni scusate la polizia moderna nasce a cavallo tra settecento e ottocento come corpo separato da altre amministrazioni dello Stato e che si definisce proprio attorno alla funzione di intervento diretto del governo per il mantinamento dell'ordine cioè il lavoro di polizia si definisce a partire dall'ottocento in stretta dipendenza alle esigenze degli stati moderni in via di costruzione che hanno un'esigenza di vigilanza sempre più puntuale e precisa della popolazione il primo passaggio da tenere la mente dunque è che la polizia si afferma come campo separato da quello giudiziario noi siamo abituati a pensare alla polizia come polizia giudiziaria investigativa in realtà la polizia nasce e tutt'oggi svolge una serie di compiti che con il mondo della giustizia penale ha poco a che fare e proprio in ottemperanza questa separazione dal campo giudiziario che avviene proprio all'inizio dell'ottocento dopo la rivoluzione francese in ottemperanza proprio alla separazione dei poteri e quindi più la giustizia si i tribunali diciamo così si rendono indipendenti dal potere del sovrano secondo appunto l'autonomia della magistratura rispetto al potere esecutivo tanto più la polizia si specializza invece proprio come corpo alla dipendenza del potere esecutivo e del governo secondo passaggio importante il potere di sorveglianza dello stato moderno era teorizzato proprio nei termini di esistenza di uno ius supreme ispezionis veniva chiamato cioè che consentirebbe proprio un diritto dello stato di esercitare una continua vigilanza su tutto ciò che può avere influenza sulla sua esistenza sulla sua vigenza quindi lo stato moderno nasce con questa potestas come direbbero cioè con questo potere che è un potere che riguarda proprio l'affermazione dello stato moderno terzo passaggio importante la polizia moderna si specializza rispetto al campo giudiziario proprio per la funzione di governo della popolazione e in tal senso viene orientata anche professionalmente e sono le emergenze che gli stati moderni definiscono in funzione della propria affermazione che costruiscono l'idea e la necessità di un corpo separato dall'amministrazione dello stato come quello della polizia basta citare tra le emergenze che siamo nell'età delle rivoluzioni nell'ottocento prima liberali poi socialiste che indicano il nemico in cantina il sovversivo l'anarchico il socialista il terrorista siamo anche nel secolo l'ottocento delle trasformazioni socio-economiche connesse alla rivoluzione industriale quindi con masse di diseredati e di sfollati dalle campagne che si riversano nelle città spesso dormendo per strada o arrangiandosi in qualche modo si pensi all'ampia letteratura ottocentesca dagli Dickens alle vignette di Polgarni infine le ribellioni territoriali le ribellioni territoriali all'imposizione di un ordine statuale in zone abituate a regolarsi diversamente si pensi al brigantaggio per esempio o a tutte le zone di confine che diventano aree calde proprio per l'irrigidimento dei confini nazionali insomma per controllare i sovversivi gli oppositori politici che si nascondono ovunque i vagabondi gli sfaccendati che vivono per le strade e di espedienti e per dimostrare la forza dello Stato nell'imporsi entro i suoi confini occorreva mettere in campo un apparato di sorveglianza e di repressione che sapesse mantenere l'ordine e vigilare su tutto ciò che si muoveva all'interno dei confini nazionali allora alcuni studiosi di storia delle polizie identificano proprio nella polizia politica il primo passo verso la modernizzazione dell'apparato di pubblica sicurezza le polizie che tendono a prendere le distanze da quella sbirraglia dell'anzian regime fatta di persone che venivano assoldate per garantire l'ordine in un quartiere piuttosto che in una città ma sempre con una scarsa professionalità e spesso prese dalle file proprio degli ex detenuti o delle persone che avevano avuto guai con la giustizia in realtà al partire dell'ottocento le polizie prendono le distanze dalla sbirraglia perché si professionalizzano e al tempo stesso si burocratizzano ci sarebbe tanto da dire su questo ma poi si dotano di una struttura e questo è importante capillarmente presente su tutto il territorio nazionale pensate all'arma dei carabinieri una volta istituita nel 1815 se non ricordo male viene inizia a distribuirsi capillarmente su tutto il territorio diventa una rete infrastrutturale di sorveglianza e di controllo di tutta una parte dell'Italia che fino a quel momento non avevano mai visto neanche un tutore diciamo un rappresentante dello Stato e si dotano e questo è importante per i nostri figli di una rete di informatori esterni con varia intensità di coinvolgimento con i quali scambiano informazioni gestori di locande farmacisti ma anche politici locali parroci e infine adottano nuove tecniche di controllo sociale e questo è un ulteriore passaggio perché l'Ottocento è anche il secolo del positivismo scientifico e delle innovazioni tecnologiche che trovano applicazione anche nel campo del controllo sociale dalla bioantropometria utile all'identificazione delle persone poi sostituita ma non del tutto se pensate alle carte di identità e ai segni particolari che in essa sono contenuti però sostituita gradualmente dalle fotosegnalazioni e dalle impronte digitali e sono spesso i funzionari di polizia che sviluppano queste tecniche e parallelamente ci sono i nuovi saperi che si impongono come necessari al processo di modernizzazione pensate a Cesare Lombroso quello del famoso criminologo che teorizzò la delinquenza tavica aveva colto la necessità di una polizia moderna capace di liberarsi dai metodi tradizionali basati semplicemente sull'intuito e sull'esperienza del singolo ma cerca appunto di portare avanti un'idea di polizia scientifica che poi troverà proprio nella scuola superiore della polizia istituita da Salvatore Ottolenghi un suo allievo un ambito in cui lavorare ecco se guardiamo e scusatemi se l'ho fatto un po' lunga forse questa parte storica ma io ritengo importante per capire la sorveglianza che cos'è cioè se guardiamo a questo stretto legame tra potere di vigilanza e affermazione degli stati liberali e che evidentemente è nel passaggio agli stati autoritari e totalitari del novecento si assolutizza e perde ogni limite questo potere di vigilanza ci si rende conto del perché le democrazie costituzionali costituzionali affermatesi proprio dopo le tragedie della seconda guerra mondiale abbiano ripreso il filo di quel lento processo di democratizzazione che passava innanzitutto per la limitazione del potere di presa del corpo del suddito l'abeas corpus cioè le democrazie costituzionali pensate a quella italiana con l'articolo tredici in cui si parla di libertà personale sancisce l'inviolabilità sostanzialmente della libertà personale che è un'inviolabilità della dignità umana preservandola innanzitutto dagli arresti immotivati e ingiustificati cioè dalla presa del corpo da parte del potere pubblico e quindi prevede per esempio per la libertà personale che ci sia una doppia riserva la riserva di legge e la riserva di giurisdizione se una persona per essere privata della propria libertà personale deve esserci una legge che prevede quel comportamento come reato e deve esserci un giudice al contempo che dà l'ordino comunque che autorizza questo tipo di restrizione quello che voglio dire è che questo rapporto tra potere e libertà è il tema fondamentale della democrazia e la tendenza degli stati dei governi a sorvegliare la popolazione permane come esigenza fondamentale di governo che deve districarsi soprattutto a partire dal secondo dopoguerra tra limitazioni democratiche a salvaguardia delle libertà libertà vecchie e nuove perché c'è la privacy o c'è la segretezza della corrispondenza si pensi per esempio a tutta la meticolosa disciplina delle intercettazioni telefoniche ambientali che si è costruita nell'ambito della procedura penale ma quella della sorveglianza della popolazione continua a essere un'esigenza fondamentale che con l'imporsi di nuove emergenze si alimenta e cresce chiedendo sostanzialmente la revoca delle limitazioni democratiche che sono state costruite per limitare il potere di intervento sugli individui quindi è il tratto tipico di ogni fase di emergenza quello di ampliare la discrezionalità amministrativa derogando alcune libertà ed è una tendenza crescente come possiamo vedere in Francia con l'approvazione della legge sulla sicurezza globale quella di normalizzare una volta finita l'emergenza almeno in parte queste deroghe alle libertà quindi il periodo dell'emergenza è un periodo particolarmente delicato sempre dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico perché è un momento in cui alcune libertà per la necessità di affrontare nuove 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 problematiche vengono vengono ridotte vengono compresse ma il tema è se finita l'emergenza si riesce a ritornare al prima oppure c'è un dopo che tiene conto dell'emergenza come dato strutturale così è capitato per esempio nel 2001 con il Patriot Act negli Stati Uniti e con tutta la legislazione antiterrorismo europea io ho scritto un articolo proprio su come la legislazione europea e statunitense a partire dal 2001 ha iniziato a orientarsi tutta verso la limitazione di alcune libertà ma è insomma è la Zuba stessa che nel capitalismo della sorveglianza definisce proprio come a seguito del 2001 ci sia stato un connubio tra le esigenze di sicurezza e lo sviluppo delle nuove aziende della società dell'informazione le nuove aziende tecnologiche infatti proprio a partire dal 2001 a seguito di una deregolamentazione ai fini della sicurezza nazionale le nuove aziende capiscono come Google per esempio è l'azienda su cui si concentra molto Zuboff in questa parte del libro capiscono l'importanza di prendere in considerazione tutta quella sedie di dati comportamentali che erano stati definiti dei dati di scarto e che invece appropriatamente trattati diventano delle vere e proprie miniere non solo per tracciare e profilare ma anche per prevedere e orientare il comportamento individuale e sociale si è parlato molto giustamente dei profili di privacy e della concentrazione monopolistica di aziende come Google Facebook Microsoft e si è parlato un po' meno della legittimità dell'estrazione ed elaborazione di dati comportamentali che afferiscono alla sfera della nostra esperienza personale di vita cosa mangiamo quando andiamo al parco come guidiamo che vino beviamo quali farmaci assumiamo cosa diciamo a tavola eccetera eccetera tutti questi questa esperienza personale di vita viene considerata una miniera per estrarre dati comportamentali che hanno la funzione di trarre profitto attraverso la profilazione a fini commerciali e già su questo ci sarebbe moltissimo da dire professore Attardi è stato davvero eccezionale nel creare questo schema ma si parla invece un po' meno come se si trattasse di deviazioni occasionali dalla normalità di come il governo dei dati comportamentali cosiddetti di scarto che abbiamo capito essere una miniera d'oro connessi appunto non solo all'utilizzo di internet ma anche al semplice vivere grazie allo sviluppo di quei sensori di un internet diffuso come viene chiamato che non necessita più di un accesso al pc ma che passa dalla domotica dagli assistenti vocali in auto in casa al polso dai sistemi di videosorveglianza aziendale o familiare gestibili attraverso uno smartphone dallo stesso utilizzo pervasivo dello smartphone per fare ogni cosa che riguardi la vita quotidiana ebbene dicevo che tutto questo si parla molto poco come se si trattasse di deviazioni occasionali dalla normalità di come il governo dei dati comportamentali lungi dal rimanere ancorato solo al campo commerciale da un lato incontra l'interesse delle agenzie di intelligence dalla polizia politica potremmo dire ancora una volta per essere più chiari innanzitutto la National Security Agency che a partire dagli anni 2000 ha stretto forti legami con le aziende della Silicon Valley e questo incontro di interessi è volto a utilizzare gli stessi dati che servono per la profilazione commerciale per tornare a vigilare sui comportamenti individuali e sociali in modo capillare continuo anche negli spazi di vita privata questa volta con una tecnologia che presenta delle potenzialità inimmaginabili per chi era abituato alla sorveglianza degli agenti in pattugliamento o alla rete degli informatori o alle impronte digitali e per di più attraverso una tecnologia che viene considerata amica friendly smart che viene quasi promossa come uno status symbol più che una tecnologia che serve al potere pubblico per vigilare costantemente continuamente sulla vita delle persone e dall'altro trova applicazione ovviamente questo governo dei dati comportamentali anche nel campo politico nel campo politico l'accennato il professor Attardi come lo scandalo di Cambridge analitica reso evidente quindi per cercare di arrivare un po' al punto e riassumere tutte queste informazioni che ho cercato di darvi i rischi per la democrazia sono plurimi riguardano tanti aspetti e andrebbero esplorati attentamente proprio per crearsi una consapevolezza capace di costruire dei concetti questo è penso il tema fondamentale costruire delle aree di sensibilità che consentano di percepire quali sono i diritti e le libertà che inconsapevolmente stiamo mettendo a repentaglio aderendo a questo modello di sviluppo economico della tecnologia informatica e dico subito proprio che il problema non sta nell'evoluzione tecnologica di per sé l'evoluzione tecnologica è come dire che il problema sta nella rivoluzione industriale è una rivoluzione che sta cambiando il modo in cui si relazionano le persone si relazionano le imprese il modo è veramente una trasformazione economico sociale e culturale ma parafrasando in qualche modo le parole di un sociologo di inizi novecento Emil Durkheim che aveva parlato di anomia proprio pensando a che cosa stava accadendo nella società come effetto come ricadute della rivoluzione industriale noi dovremmo forse pensare che il problema non è la rivoluzione tecnologica come spesso appunto diciamo non è tirare le bottiglie al drone potremmo dire ma il problema è l'insufficiente e inadeguata regolazione di fronte a fenomeni nuovi che vanno appunto indirizzati per il bene comune e non per il profitto di pochi cioè il tutto il tema che noi affrontiamo spesso quando parliamo di nuove tecnologie si riduce le nuove tecnologie sono buone o sono cattive e ci perdiamo tutto l'aspetto economico posso fare un esempio anche molto semplice c'è un libro che io ho letto attentamente per proprio anche per prenderne diciamo per assumerne un punto di vista e prenderne anche le distanze che è il libro The Game di Alessandro Baricco che è la ricostruzione della della rivoluzione tecnologica vista però in un'ottica che tende sempre a dire quanto è buona questa rivoluzione tecnologica contrastando tutti coloro i critici tutti coloro che invece pensano che la rivoluzione tecnologica vada affermata allora questo libro sostanzialmente scritto benissimo perché Baricco scrive molto bene però afferma un conflitto che non deve esistere cioè non è quello il tema su cui dobbiamo combattere e dobbiamo affermare i diritti cioè non è il tema se la rivoluzione tecnologica è buona o non è buona ma capire come la rivoluzione tecnologica e di questo Baricco non facendo nel proprio libro capire come la rivoluzione tecnologica si sta invece diciamo sta mettendo le radici in un sistema economico che ha un suo sviluppo e che devia l'evoluzione tecnologica o meglio che la orienta verso l'esclusivo profitto di pochi questo è il tema e allora provo a denucleare i rischi per la democrazia che emergono in maniera molto sintetica primo c'è un rischio il rischio di una rinnovata potestà di sorveglianza e di investigazione dei governi e dei loro apparati di sorveglianza spesso le polizie sempre più dipendenti da tecnologie informatiche che prescinde dalle barriere democratiche a tutela delle libertà individuali in questo senso l'uso di algoritmi nelle decisioni giudiziarie e ancora prima nell'investigazione criminale è solo uno dei problemi anche se sembra essere l'unico di cui si inizia timidamente a parlare perché se noi guardiamo a che cosa stanno facendo governi che non sono democratici ma che stanno diventando un po' leader anche dell'evoluzione tecnologica e culturale connessa all'evoluzione tecnologica come la Cina noi vediamo che il sistema cinese per esempio di credito sociale il credit social system è sostanzialmente un'iniziativa creata dal governo cinese al fine di sviluppare un sistema nazionale per classificare la reputazione dei propri cittadini e dando sostanzialmente a questo punteggio reputazionale dei cittadini una serie di benefit o di blocchi per esempio se viene una persona viene tracciata a prendere spesso comprare spesso una bottiglia di whisky comincerà ad avere un credito sociale un po' inferiore perché si ritiene che sia un alcolista e quindi questo comporta che lui possa essere sottoposto a diciamo così a delle limitazioni nel momento in cui dovrà accedere per esempio ad ottenere la patente che sono questioni che dal punto di vista vengono giustificate sulla sicurezza dei cittadini ma è una questione che riguarda fondamentalmente anche la libertà dei cittadini perché questo sistema diventa un sistema che sostanzialmente ricostruisce la categorizzazione sociale su cui ci sono in funzione del pericolo e del rischio un secondo tema il rischio democratico il rischio che gli stessi apparati di polizia pubblica siano sempre più privatizzati su questo stanno lavorando molto i studiosi inglesi di polizia perché dicono stiamo attenti perché l'invasione di dispositivi tecnologici informatici che riescono a essere gestiti solo da poche persone che appartengono alle poche grandi aziende del settore e da cui dipendono anche i software e la raccolta di dati comportamentali stanno gradualmente spostando la sorveglianza dalla polizia pubblica alla polizia privata cioè o meglio non è una polizia privata stanno spostando la sorveglianza dalla polizia al potere pubblico al potere privato in questo caso si può parlare proprio di una privatizzazione del potere di sorveglianza che dietro la necessità di non fermare l'evoluzione tecnologica si svincola dalle limitazioni che sono tipiche invece del potere pubblico di sorvegliare come se spassando privatizzando il potere di sorveglianza appunto attribuendolo a un drone e non più un agente in carne e ossa beh questo potere sia più giustificabile perché in qualche modo è svincolato dalle limitazioni di presa istituzionale del corpo che è quello attorno a cui si è costruito la libertà personale un terzo elemento e poi vado a chiudere è il rischio che la tecnologia della sorveglianza incontri le tendenze autoritarie di leader politici o di governi con un reciproco vantaggio le aziende del capitalismo della sorveglianza possono espandersi senza limiti proprio in uno stato che garantisce la libertà economica ma senza porre freni a tutela della libertà individuale e la Cina attenzione che continua a essere un modello di riferimento in questo e dall'altra parte leader politici e governi possono mantenere il proprio consenso alterando alla base le regole di funzionamento della democrazia avendo a disposizione strumenti sempre più sofisticati e precisi di analisi comportamentale in funzione non solo di una previsione ma anche di un orientamento dei comportamenti futuri in chiave elettorale chi riesce ad accaparrarsi l'alleanza con chi sa fare previsioni e orientamento dei comportamenti vince anche dal punto di vista politico e questo ovviamente è un'alterazione di fondo delle regole del funzionamento democratico non è solo una questione di privacy questo voglio dire cioè se è vero che tutto questo ha a che fare quindi con le libertà sotto diversi profili occorre dunque essere consapevoli e agire di conseguenza per recuperare il senso profondo della democrazia il senso profondo della democrazia che è certo un sistema politico in cui chiunque vota chi fa le leggi governa e chiunque può essere votato per fare le leggi e governare ma è anche un sistema in cui il potere qualunque potere pubblico privato ha dei limiti invalicabili nel suo esercizio Claude Lefort diceva la democrazia è l'unico sistema in cui c'è un vuoto di potere in realtà perché il potere è sempre limitato nel suo esercizio e può essere sempre revocabile da chiunque altro e allora forse dobbiamo trovare la forza di a partire da questo angolo prospettico sul potere in democrazia riaffermare questi principi anche di fronte alle tendenze che stanno rivoluzionando anche in termini positivi il nostro modo di vivere nella società mi fermerai qui per il momento se siete d'accordo molto bene Roberto molto bene francamente è di grandissimo interesse lo scenario tracciato se posso chiosare due affermazioni che mi sono molto piaciute benissimo benissimo anch'io voglio fare qualche chiosa ma benissimo prego a tardi prego 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 a tardi prego 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 lui ha citato il libro The Game di Alessandro Baricco io volevo partire da lì ah sì devo dire che io ho anche parlato di persone con Alessandro Baricco facendogli appunto presente che secondo me questi rischi delle concentrazioni possono provocare non soltanto problemi diciamo di tipo distorsioni economiche ma anche distorsioni politiche e sociali lui era rimasto molto diciamo poco poco scolpito diciamo lui ha detto secondo lui la questi questi queste concentrazioni rischi a loro volta possono essere superate da altre cioè lui raccontava nella storia diciamo c'erano grandi aziende in passato che erano considerate dei monopoli sono state superate IBM da Microsoft e così via secondo me è una posizione un po' naiva perché innanzitutto diciamo perché la situazione attuale è molto diversa cioè le aziende monopoliste di oggi sono meno stupide delle grandi aziende del passato sanno benissimo che bisogna innovarsi in continuazione in passato chi era raggiungere la situazione di monopolio pensava di avere ormai il controllo di tutto di essere onnipotente le aziende di oggi invece stanno invece come espandersi cioè si allargano sempre nuovi settori quindi diventano sempre più grosse e dove se nasce un potenziale concorrente lo prendono lo acquistano cioè come ha fatto non so Facebook con Instagram eccetera quindi questa era l'osservazione quindi Baricco secondo me dice delle cose interessanti diciamo sul fatto appunto dell'analisi dell'effetto dirompente diciamo della tecnologia però secondo me gli sfugge il fatto che la direzione in cui stiamo andando invece ha degli aspetti negativi la seconda chiosi invece riguarda il social credit della Cina che è un meccanismo veramente inquietante volevo semplicemente citare che c'è un bellissimo episodio della serie Black Mirror che si intitola Nose Dive che fa vedere questi effetti tragici devastanti diciamo di un meccanismo come questo cioè delle persone la cui vita viene totalmente distrutta in pochissimo tempo dal fatto che il credito sociale che loro viene assegnato crolla drasticamente per una serie di episodi diciamo totalmente di fuori del loro controllo quindi in maniera totalmente incontrollabile uno si trova completamente adesso un diseredato attraverso questi meccanismi diciamo che distruggono in realtà diciamo possono beneficiare qualcuno ma altri li distruggono interamente diventano dei reietti della società cioè questo è il problema della differenza delle disuguaglianze oh grazie grazie a tardi devo dire che le chiose erano identiche sovrapponibili a quelle di a tardi partiamo anche io dalla cosa di Baricco che in realtà The Game è il secondo libro che Baricco fa su questo argomento esattamente sempre con questo tono di come dire come è bello tutto ciò che cambia il nuovo come è bello tutto io avevo notato però nel secondo libro The Game che da pagina 160 in avanti inserisce almeno qualche dubbio gli ultimissimi diciamo l'ultimo terzo del libro contiene qualche elemento di riflessione critica questa è la cosa che mi aveva colpito perché è in qualche modo un elemento di apertura la discussione insomma che devo dire l'avevo colto come una cosa interessante invece la seconda cosa questa cosa Cina è davvero una questione che mi diciamo dovremmo scavare tantissimo io mi chiedevo e chiedevo a Tadi a Roberto se noi abbiamo una conoscenza di cosa hanno fatto Cina ma non solo la Cina penso anche alla Corea del Sud che pure è un regime formalmente democratico per fronteggiare la pandemia perché lì hanno usato forme di controllo sociale da quanto si intuisce enormi per capire bene che cosa hanno concretamente fatto i risultati hanno avuti sicuramente ma come sono fin dove sono spinti è un punto su cui piacerebbe riuscire a capire qualcosa di più ma adesso non aggiungo altro sentiamo interventi dei nostri corsisti dove è una questione davvero di enorme enorme interesse prego Cogliati prego voce voce Cogliati microfono Cogliati stavo cercando di trovare il microfono sono stato molto colpito da questo social credit cinese ne sapevo piuttosto poco no ne sapevo diciamo niente mi piacerebbe che spendeste qualche minuto per darne le informazioni più complete e eventualmente darmi degli spunti di studio dove andare a leggere grazie grazie per Giorgio Daniele ma una domanda una considerazione l'ho scritta per essere velocissimo dal punto di vista di un settantenne come me dal punto di vista della politica democratica per il cambiamento oggi cioè di fronte alle vostre due relazioni che ovviamente ringrazio perché hanno dato un quadro molto puntuale di tutte le tematiche connesse a questo a questo tema allora forse dobbiamo rassegnarci ai processi ai processi dell'evoluzione della specie anche nel superamento degli strumenti pubblici di governo e di controllo oggi cioè processi di evoluzione cioè a me sembra che ormai anche la seconda relazione di Cornelli insomma rivoluzione industriale rivoluzione informatica eccetera eccetera forse un punto di vista sulla evoluzione della nostra specie umana che analizza questi processi da questo punto di vista e che quindi non si pone il problema di cosa fare contro questi processi o per questi processi eccetera ma li analizza scientificamente dico scientificamente dal punto di vista dello scientifico marxiano ok e per poter continuare semplicemente io dico semplicemente quello che è successo da due secoli a questa parte a affermare e difendere interessi delle persone e valori che i democratici vogliono continuare ad affermare e difendere cioè alla fine della fiera ci sono processi che non possiamo noi almeno al mio punto di vista forse perché sono anziano no è ormai stanco e ormai non lo so comunque non possiamo determinare ma possiamo governare cioè se è da governare o controllare e difendendo come è la storia nostra della sinistra dei democratici eccetera quelle parti quegli interessi quei valori su cui noi crediamo su cui su questi processi noi vogliamo che vadano in una certa direzione e un'altra ma l'analisi per fare questo ci vuole un'analisi scientifica che si è persa si è persa un'analisi scientifica dei processi cioè noi viviamo ancora di un'analisi di due secoli fa allora questa analisi allora quando si parla di interdisciplinare di università democratica dovrebbe essere un grande sforzo di chi vuole sostenere valori e interessi ben precisi ok un grande sforzo di analisi innanzitutto per vedere come introdurre questi valori questi interessi nel cioè questo è la secondo me quello che possiamo fare perché continuare a lamentarsi perché i sistemi di controllo precedenti cioè di 10 anni fa 20 anni fa 30 anni fa non funzionano più è inutile cioè si tratta di vedere quali nuovi sistemi anche il sistema del controllo di governo dello Stato pubblici eccetera cioè entrare in questi processi e vedere di indirizzarli punto grazie Daniele mi sembra che Silvana ha chiesto la parola non ho capito bene microfono sì ho chiesto io di intervenire ma c'è stato un errore di indirizzo e ho visto che ho una domanda una curiosità ho visto che YouTube sta offrendo la possibilità agli utenti di pagare un certo ammontare mensile per non avere l'interruzione pubblicitaria durante la la visione dei suoi video delle sue registrazioni questo pone forse un problema al solito di differenza di redditi e quindi chi può permettersi di non avere più quel disturbo e quel controllo derivante dal controllo e chi invece non può mentre una disciplina generale su come si possono dare sarebbe molto meglio un problema è adesso se viene applicato quanto richiesto dal recovery fund a proposito dell'ampliamento della digitalizzazione dell'espensione per dare a tutti la possibilità sia tecnica che culturale di servirsi delle nuove tecnologie non diventa urgente provvedere a questa disciplina a questo cominciare fra i giuristi a esaminare con urgenza questo problema perché altrimenti poi diventa molto difficile correggere quando quando si ha completamente dentro a uno sfruttamento economico di certe cose grazie grazie Silvana Anna Passerini prego Anna allora volevo richiamarmi a un'altra lezione che proprio durante la scuola di cultura politica era stata tenuta da un professore di cui non ricordo il nome però ricordo che aveva suggerito un libro il libro di Dave Eggers Il cerchio che poi sono andata a leggere ricordo di avere chiesto a questo relatore che cosa ciascuno di noi potesse fare individualmente per combattere questa situazione e ricordo appunto che aveva il relatore si era limitato a scuotere la testa dando per scontato che la risposta potesse venire soltanto da poteri forti tanto quanto era forte il potere di queste major eccetera mi è capitato però in questi giorni di rileggere Shasha e Shasha insiste moltissimo sul fatto che contro la legislazione d'emergenza contro gli abusi del potere è importante che ci muoviamo tutti anche individualmente anche assumendoci le nostre singole responsabilità allora a voi chiedo ripropongo la stessa domanda c'è qualcosa che come singoli cittadini possiamo fare oltre che sperare che si muovano i poteri forti grazie Armando Toscano ecco scusatemi sono in giro quindi ci sarà magari un po' di confusione una domanda brevissima mi stavo domandando nel momento in cui l'attività di conoscenza approfondimento dei comportamenti umani di previsione modellizzazione viene sussunta dal dai sistemi di sorveglianza il che fine fa la ricerca sociale nel senso che io credo che questo sia anche il mandato anzi mi verrebbe da dire primariamente il mandato della ricerca sociale ecco volevo un'opinione in questo senso grazie grazie altre domande non vedo altre domande faccio io una ad attardi precisa una questione lei ha accennato attardi all'intervento necessario nel digitale pubblico siccome la cosa ha molto a che fare anche adesso col recovery plan vorrei capire meglio lei che cose è un punto mi sembra di enorme interesse lei che cosa avrebbe in mente su una cosa di questo genere allora visto che mi dà la parola provo anche a rispondere ad alcune delle domande che sono state poste mi sembra Silvana parlasse della la questione del pagare il youtube per avere accesso a alcuni contenuti senza pubblicità secondo me il problema si può risolvere il problema risolve che lei sottolinea cioè il fatto che alcuni potrebbero restare privi di questa possibilità è sul fatto che Dante le dimensioni diciamo dei numeri diciamo di persone che sono che utilizzano questi servizi il costo può essere spalmato su talmente tanti numeri così elevati che il costo dell'abbonamento potrebbe essere di pochissimi euro insomma al mese e si possono inventare cose appunto molto molto innovative per esempio il giornale Guardian consente di fare un abbonamento a un prezzo a scelta cioè a offerta cioè dite voi quanto volete spendere quindi uno se lo vedete andate sul sito e dice benissimo io per esempio io l'ho fatto il Guardian non è che lo leggo ogni tanto quindi fare un abbonamento annuale sarebbe eccessivo pagherei centinaia di euro però diciamo visto che ogni tanto capita di leggere qualche articolo interessante ho dato il mio contributo ho deciso quanto dare puoi partire da un euro al mese fino a quanto vuoi e fai l'abbonamento quindi secondo me ci sono strade che si possono perseguire per appunto riuscire a eliminarsi da questa distorsione che è dovuta dalla pubblicità senza appunto incorrere in costi esorbitanti l'altra domanda che è stata l'altra questione che è stata posta riguardo al fatto che bisognerebbe ci fosse un'analisi approfondita ci vorrebbe appunto un altro un altro gigante come Carlo Marx che può fare uno studio alcuni dei studi sono se vogliamo ci sono dei pezzi per esempio c'è stato c'è il lavoro di Piketty sulla diseguaglianza economica c'è il lavoro di Susanna Schub sulla sulla questione diciamo del capitalismo diciamo di sorveglianza digitale eccetera ci sono degli elementi che toccano questi aspetti in realtà la questione fondamentale è che noi abbiamo perso diciamo è vero che nel socialismo si mettono insieme questioni che riguardano l'economia e la libertà e alla fine le due sono in qualche modo considerate strettamente legate l'una all'altra quindi libertà e non è solo libertà sociale economica libertà di diritti diciamo di libertà ma è anche libertà economica e le due cose si legano insieme in questa società moderna la seconda sembra essere in qualche modo cioè libertà sociali libertà diciamo sembrano essere messi in secondo piano perché prima di tutto viene la libertà economica bisogna lasciare liberi i capitalisti di fare quello che vogliono perché quello è il bene di tutto come una volta si diceva se va bene alla Fiat va bene all'Italia quindi fino adesso c'è attualmente il neoliberismo imperante sostiene questo diciamo lasciate liberi i capitalisti che faranno comunque il bene di tutti compreso anche di fornirvi le libertà a cui voi anelate credo che non sia così però diciamo il messaggio è dominante per cui quelle che una volta erano suddivisioni che riguardavano anche questioni diciamo dei diritti quindi le classi sociali per esempio le classi lavoratori anelavano all'istruzione che è un diritto all'istruzione è una grande conquista il diritto alla salute è un altro quello è una grande conquista ora si dice no ma questi non sono problemi perché tanto il capitalismo il neoliberismo risolverà tutto risolverà il problema della fame nel mondo che in realtà sta in realtà in qualche modo riducendosi e quindi lasciatelo fare quello che si perde però è il fatto che questi meccanismi provocano delle amplificazioni diciamo delle disuguaglianze e quindi se vorremmo una società più giusta occorrono dei meccanismi per equilibrare questo questo mi collega all'ultima domanda cioè cosa possiamo fare noi come singoli e credo che il primo problema fondamentale rendersi conto diciamo del problema perché secondo me molto spesso la gente non è cosciente della questione quello che siamo terribilmente abituati ai benefici vediamo solo i benefici senza vedere diciamo gli effetti delle terre della situazione in cui stiamo andando cioè li vedremo qualche anno fra qualche anno avremo milioni disoccupati perché l'artificial intelligence porta via i lavori automatizza la gran parte del lavoro a quel punto lì forse ce ne accorgeremo forse a quel punto lì ma a quel punto sarà troppo tardi per quello dico bisogna agire presto diciamo prima che i fenomeni arrivino al punto di non ritorno l'ultima domanda riguardante cosa può fare si può fare appunto come singoli cosa può fare diciamo il paese diciamo lo stato il governo eccetera allora secondo me una delle grosse battaglie è proprio quella almeno nei settori che conosco io quindi diciamo ci saranno probabilmente altri su altri settori l'energia l'ecologia eccetera ma nel campo diciamo dell'informatica che avevamo effetti pervasivi su tutto compresi gli altri non possiamo come come nazione essere competitivi questa è la questione cruciale né sul né sull'artificial intelligence né sul cloud che sono le due tecnologie che avranno l'impatto fondamentale nei prossimi anni per quello l'unica modo diciamo come nel dopo la guerra dopo il 45 la ricostruzione industriale dell'Italia fu affidata allo Stato perché non c'erano privati o aziende in grado diciamo di sostenere i costi diciamo della ricostruzione del paese secondo me bisogna fare la stessa cosa cioè bisogna essere che un intervento diciamo di Stato oppure dell'Unione Europea cioè a livello continentale si investa in quelle che sono le infrastrutture del futuro quindi sono le infrastrutture digitali per appunto riconquistare la propria autonomia qualcuno la chiama sovranità digitale ma un concetto simile cioè nel senso dobbiamo essere dotati del controllo delle tecnologie che ci servono per sopravvivere altrimenti diventeremo semplicemente dei consumatori di servizi di altri qualcuno diceva il nostro paese che si specializza diciamo nella cultura nel turismo eccetera diventeremo semplicemente dei camerieri che spolverano i mobili cioè i mobili noi li spolveriamo teniamo appunto in piedi i musei e gli alberghi e poi ci sono le piattaforme invece che guadagnano sull'affitto delle case sui viaggi quindi loro guadagnano e noi facciamo i lavori umili quindi avremo quella disparità diciamo di divisione del lavoro diciamo anche se i lavori diciamo di alto livello di alto guadagno vengono appunto portati via perché non hanno più bisogno di localizzazione fisica e quelli che si trovano invece sul campo restano a fare i lavori umili cioè quindi spolverare le camere oppure portare diciamo il cibo da un ristorante a un altro oppure distribuire i pezzi diciamo dei commercianti online quindi cosa si può fare con il refund io sto proponendo diciamo ho proposto diciamo che quello che si faccia in Italia sia investire in un'infrastruttura di cloud computing per la pubblica amministrazione quindi a livello nazionale quindi investire in un'infrastruttura che sia realizzata gestita sviluppata in Italia con personale italiano e con idee italiane quindi questo vuol dire nel mondo del cloud siamo soltanto agli inizi cioè la tecnologia sta conquistando piano piano settori ma qualcuno dice è troppo tardi come diceva invece Angelo Raffaele Nero non è mai troppo tardi in informatica perché le innovazioni avvengono in continuazione quindi il mondo del settore dei servizi cloud che oggi appaiono così esorbitanti è oggi soltanto un centesimo di quello che sarà tra dieci anni quindi c'è un loro spazio di sviluppo di crescita di conquista con miriade di possibilità dobbiamo essere presenti dobbiamo essere presenti quindi se le aziende italiane non se la sentono non hanno la capacità di investire in questo settore perché non hanno dimensioni per farlo a questo punto l'unico che può farlo può essere soltanto lo Stato come dice Mariana Mazzucato diciamo lo Stato imprenditore diciamo facciamo sì che lo Stato riprenda questo ruolo che dopo guerra è stato cruciale per rilanciare il paese e facciamo sì che lo Stato investa in strutture naturalmente facendolo in prima persona per se stesso perché le cose che funzionano meglio sono quelle che si fanno per sé e quindi una creazione di una crowd nazionale con idee concetti innovativi che ci guardino al futuro io ho fatto anche una proposta concreta tecnicamente che diciamo ribalta un po' il procedimento diciamo di fruizione dei dati attualmente sul web siamo noi che andiamo in giro andiamo sui vari siti andiamo a visitare i siti e prendiamo le cose che si trovano qua e là l'idea che proponevo io è di ribaltare questo meccanismo qui sono i dati che vengono a noi non soltanto quindi i dati della pandemia invece di essere raccolti in maramente o in modo diverso tra una regione e l'altra vengono prodotti dove vengono raccolti e vengono inviati in un flusso continuo a tutti quelli che lo vogliono usare quindi non soltanto li prendo io li metto da una parte poi se tu me li chiedi ma forse te li do no i dati viaggiano in continuazione in tempo reale su una specie di ho fatto l'analogia di un bacino fluviale in cui ci sono delle fonti da cui scaturisce il flusso delle acque le acque poi scorrono verso il basso si raggruppano insieme in torrenti poi in fiume poi ci sono chi fa delle dighe per raccogliere una parte per usarla al momento successivo e questo avviene in continuazione c'è il flusso dell'acqua io sono qui di fronte il fiume Arno non si interrompe mai non è c'è qualcuno che dice ma se l'acqua la prendo io me la tengo per me poi se me la chiedi te la do no i dati devono essere vivi cioè essere semplicemente un flusso continuo scusate questa è una cosa molto un po' più tecnica ma dà l'idea del fatto che c'è ancora enorme spazio diciamo per sviluppare nuove idee e poi avere un ruolo che non è soltanto passivo in questo sviluppo tecnologico sociale economico che avremo nei prossimi anni no grazie a tardi molto molto interessante anche l'idea che si possono fare delle cose rilevanti si vuole fare Roberto sì mi aggancio anch'io a quest'idea che si possono fare delle cose e rispondo immediatamente alla domanda di Anna Passerini cosa si può fare individualmente io penso che si possono appunto la consapevolezza idee innovative possono venire individualmente ma se non si adotta una prospettiva neocollettivista chiamiamola così cioè in cui è la collettività che si muove in una certa direzione rischiamo semplicemente di diciamo così di disperdere anche il patrimonio di idee e di proposte molto innovative ma che non hanno un terreno su cui attecchire dico semplicemente che questa idea di a tardi che questa proposta che apprendo oggi perché non sono del settore specifico ma mi sembra molto intelligente interessante che va proprio nell'idea per cui i dati comportamentali non sono di nessuno e non possono essere espropriati da qualcuno per farne un proprio utilizzo in termini di profitto bene questa idea deve avere una cultura di riferimento e una cultura intendo dire non solo una consapevolezza ma anche una cultura politica che riesca a capire qual è il problema a cui questa soluzione a questa soluzione vuole che questa soluzione vuole affrontare allora secondo me il tema è ancora una volta scusate siamo in una scuola di cultura politica ma bisogna dirlo cioè il tema è anche di costruire una cultura politica su questi temi non solo una conoscenza individuale ma una cultura politica significa recuperare l'idea che per affrontare rivoluzioni tecnologiche e cambiamenti così epocali non può bastare semplicemente una conoscenza accademica che quella è la base la conoscenza scientifica che quella è la base ma occorre costruire anche una consapevolezza diffusa potremmo dire di massa su questi temi allora che cosa intendo dire che insomma se noi guardiamo alla storia io più vado avanti e più sono affascinato dalla storia mi dovete scusare ma riesco a ritrovarmi sempre a ritrovare sempre spunti utili ma se noi guardiamo cioè è come se noi volessimo oggi pensare di risolvere il problema dell'industria automobilistica agli inizi del novecento diciamo così a metà del novecento e cos'è cos'è accaduto nella rivoluzione industriale è accaduto che si siano formati anche dei fenomeni diciamo dei movimenti collettivi che vanno sotto il nome di luddismo che colpivano le macchine lanciavano le bottiglie di vetro ai droni diciamo per attualizzare quella quel movimento e però hanno anche in questo in questa oppositività hanno costruito uno sguardo critico che poi ha aiutato anche i movimenti di massa socialisti più ampi a tenere conto di quali sono le problematiche insomma la carta dei luddisti che spesso viene un po' vituperata però è la prima forma di consapevolezza scritta di una serie di problematiche che riguardavano il tema della macchina della macchina industriale rispetto al lavoro allora su questo tema noi dobbiamo anche recuperare un po' l'idea del conflitto scusatemi se lo dico cioè non possiamo sempre pensare che le cose avvengano in maniera ordinata e progressiva c'è anche una conflittualità che si deve sviluppare una conflittualità che magari prende anche strade che non sono quelle che noi reputiamo utili ma che cominciano a costruire un livello critico nell'utilizzo delle tecnologie una conflittualità che poi deve trovare però un progetto politico che lo affronti non solo in termini giuridici ecco questa è un po' la risposta che volevo dare anche a chi diceva serve mi pare Silvana serve anche un impegno maggiore dei giuristi sì ma serve anche un impegno maggiore di tutti noi nel costruire le condizioni per cui poi si arrivi anche a soluzioni giuridiche perché se una soluzione giuridica viene presa ma cade nel buio come ce ne sono tante di decisioni giudiziarie che hanno cercato di aggiustare un po' no? alcune situazioni che riguardavano per esempio la privacy o altre libertà personali però sono un po' cadute nel vuoto perché non c'è una presa di consapevolezza diffusa su questi temi allora provo a essere un po' più specifico su due aspetti primo che cosa ha consentito alle democrazie costituzionali del secondo dopoguerra di costruire un sistema di diritti e di libertà che è il più avanzato che abbiamo conosciuto nella storia dell'umanità che cosa ha consentito questo? ha consentito la presa di consapevolezza di tragedie che sono accadute non solo le tragedie della guerra ma anche le tragedie del lavoro e dello sfruttamento del lavoro quindi c'è una presa di consapevolezza movimenti collettivi che hanno fatto di questa presa di consapevolezza un progetto politico che è entrato è entrato nell'organizzazione sociale economica giuridica delle nostre società e che si sono poste in conflitto anche con la resistenza di chi aveva una visione diciamo così della società come legata a un darwinismo sociale quindi a una visione schumpeteriana diciamo così dello sviluppo economico oggi noi ci siamo diciamo così siamo in una condizione in cui pensavamo che certe contrapposizioni si fossero in qualche modo non fossero più attuali e quindi quali sono gli elementi che secondo me creano e su cui dobbiamo ragionare a fondo perché creano degli impedimenti a ricostruire un movimento di consapevolezza collettiva della necessità di un progetto politico gli elementi sono primo la new economy la new economy cioè l'idea per cui il mercato regola da solo lo diceva prima a tardi questo è un elemento che blocca perché se è il mercato che risolve di per sé i problemi non c'è più nessuna esigenza di muoversi collettivamente per migliorare le cose secondo tema fondamentale a mio avviso la deistituzionalizzazione noi anche con questa rivoluzione tecnologica abbiamo portato alle estreme conseguenze quel pensiero deistituzionale che ritiene che in fondo la società si possa regolare da sola senza la politica non solo il mercato ma anche la società non abbia bisogno di politiche di istituzioni quando invece se non ci sono le istituzioni democratiche ci sono altre istituzioni che governano la società e il terzo elemento che si connette a questi due è la questione culturale legata alla sicurezza tutto questo questi movimenti diciamo di deregolamentazione e di deistituzionalizzazione trovano come beneficio promesso quello del fatto che saremo più sicuri in questo modo perché liberandoci da tutta una serie di vincoli che sono poi dei nostri diritti in realtà avremo maggiore sicurezza allora questi tre elementi io li vedo fortemente collegati allo sviluppo degli ultimi vent'anni delle tecnologie informatiche e del capitalismo della sorveglianza sono tre elementi su cui invece bisogna avere una sguardo critico e ricostruire un progetto politico che ritrovi l'importanza della regolamentazione del mercato in funzione della società e non del profitto come scritto nella nostra costituzione dall'altra parte ritrovi l'idea delle istituzioni come luoghi di equilibrio di compensazione rispetto a tutta una serie di tendenze anomiche che vanno alla distruzione della socialità e non alla sua costruzione e ritrovi l'idea delle libertà perché sono le libertà che ci danno sicurezza io qui potrei da criminologo cominciare a enuclearvi tutti quei benefici in termini concreti di riduzione degli omicidi di riduzione della violenza istituzionale di riduzione di tutta una serie di fenomeni di sfruttamento che proprio la considerazione delle libertà la centralità delle libertà ha consentito contro una limitazione proprio del potere del potere pubblico quindi io penso che il discorso sia molto molto articolato ma che non si può prescindere da una visione culturale politica scusa mi dico solo altre due cose l'ho fatto un po' lunga ma mi appassionano questi temi e quindi vi dico solo una cosa che riguarda la domanda di Ferruccio sulla pandemia Cina e Corea del Sud allora è evidentemente un tema su cui non abbiamo ancora riflettuto abbastanza hai ragione e dovremmo rifletterci perché io penso che su questa pandemia siamo andati un po' tutti nell'affanno e nell'emergenza giustamente di qualcosa che ci ha sconvolto le nostre vite ma ancora una riflessione sugli strumenti adottati sulla loro efficacia e sulle loro ricadute non l'abbiamo fatta ed è urgente farla per l'Italia per la Corea del Sud per gli Stati Uniti per il Brasile cioè facendo proprio una valutazione a 360 gradi dico solo una cosa però perché si ricollega al tema della fiducia nella tecnologia allora io ricordo che Giorgetti attuale ministro rappresentante della Lega disse qualche anno fa che i medici di base in Lombardia non servivano perché in realtà basta andare su Google e uno si ritrova la diagnosi al suo problema e anche la risposta farmacologica da seguire questa è una fiducia che non riguardava solo Giorgetti riguardava tutta un'ubriacatura nostra rispetto alla rivoluzione tecnologica come dicevo prima qualcosa che rende inutile l'organizzazione sociale e politica della società perché dico questo perché l'abbiamo riproposto anche con l'app Immuni io quando è uscita l'app Immuni che pure ho ritenuto uno strumento utile però ho detto attenzione da subito in alcune interviste che ho fatto attenzione perché una app non risolve un problema di medicina territoriale io posso anche sapere tutta una serie di cose avere un tracciamento ma se poi non ci sono non c'è un'organizzazione istituzionale della medicina sul territorio che sia in grado di prendere queste informazioni e di elaborarle in termini proprio di risposte di interventi che sono interventi concreti non virtuali noi non riusciamo cioè questa app non servirà per il tracciamento servirà solo per avere qualche informazione in più sul covid e io penso che un po' diciamo così si voglia ogni tanto si buttino lì delle soluzioni tecnologiche per gettare anche un po' fumo negli occhi nel senso che sono soluzioni tecnologiche che in realtà non si pongono il problema dell'organizzazione sociale che è necessaria invece allora è in questo senso che io penso che dovremmo andare a vedere il tema della Corea del Sud perché la Corea del Sud certo è stata criticata perché l'app che ha utilizzato era fortemente diciamo invasiva perché andava anche a vedere quanto le persone utilizzavano la carta di credito insomma tutta una serie di invasività delle libertà che a noi ci porrebbe qualche problema però attenzione l'elemento che ha funzionato a mio avviso di quella app è il fatto che ci fosse già un'organizzazione del tracciamento e un'organizzazione medico sociale maturata nella precedente epidemia che hanno avuto di SARS e che è stata messa in connessione con l'utilizzo dell'app e quindi c'è stata una capacità di quei sistemi sociali e sanitari di interagire con la tecnologia poi vediamo a che livelli di invasività ma di interagire per rendere efficace quello strumento che altrimenti sarebbe rimasto semplicemente un qualcosa di smart da utilizzare e ultimo tema che forse riguarda devo una risposta ad Armando Toscano che ruolo la ricerca sociale ora non mi azzarderei a dire le ruolo avrà la ricerca sociale però io continuo a pensare che c'è una parte della ricerca sociale che si sta adattando in maniera potremmo dire attuariale cioè sta cercando di seguire l'onda di questa rivoluzione tecnologica e in qualche modo anche diciamo essendone appunto un adattamento e quindi diventando parte di questa evoluzione tecnologica io penso che la ricerca sociale debba aiutare a sviluppare un pensiero critico ma cosa intendo per pensiero critico perché altrimenti diciamo sempre le stesse cose sempre senza articolarle io intendo dire che dobbiamo prendere considerare queste rivoluzioni tecnologiche come una sfida per comprendere qual è l'universo di riferimento in cui vogliamo stare cioè la ricerca sociale può avere un ruolo oggi molto importante se a partire da ciò che costituisce il nostro orizzonte di fondo che penso che sia quello appunto democratico un orizzonte democratico cerchi di lavorare per costruire quella infrastruttura giuridica quell'infrastruttura organizzativa istituzionale cioè per ridare valore alle istituzioni in fondo riprendo la lezione di Durkheim che ho citato prima in fondo Durkheim uno dei primi sociologi che cosa ha fatto ha guardato la rivoluzione industriale ha cercato di analizzarla e ha detto qui si creano dei problemi dal punto di vista della solidarietà sociale e delle istituzioni che governano la vita delle persone dobbiamo provare a capire quali sono qual è questa insufficienza per cercare di colmarla non è solo una questione giuridica ma è anche una questione giuridica non è solo una questione sociale ma è anche una questione sociale e quindi provare a ragionare in termini un po' più ampi io vedo che c'è un empirismo troppo forte nella ricerca sociale io a me piace la ricerca empirica ma bisogna stare attenti perché l'empirismo toglie fiato ha un sguardo complesso su ciò che sta accadendo e che necessita di tenere in considerazione tanti tanti livelli sul credit social system vi allego adesso nella chat un articolo del Washington Post per farsi un'idea vi dico però che c'è veramente poco di riflessione su questo argomento io ci sto lavorando spero di arrivare in tempi non giurastici a scrivere qualcosa di più completo e quindi magari ne potremo parlare la prossima la prossima edizione della scuola di cultura politica perché c'è poco ci sono articoli giornalistici c'è qualche studio che inizia ad affrontarlo in termini sistemici ma non siamo ancora al livello di capire esattamente che cosa comporta questo sistema sappiamo però che è certamente qualcosa che si lega benissimo alla tendenza di governo autoritario della repubblica popolare cinese sui propri cittadini con un sistema di proprio categorizzazione potremmo dire attraverso l'attribuzione di punteggi e che non riguarderà solo i cittadini attenzione ma riguarda l'intera società riguarda anche le imprese per esempio anche le aziende presenti sul territorio anche le associazioni i gruppi sociali quindi un controllo una sorveglianza totalizzante rispetto a tutto ciò che si muove all'interno della repubblica popolare cinese farlo con una rete di informatori è un conto farlo con la capacità di utilizzare i big data è un altro conto perché si arriva a una precisione nella profilazione che era inimmaginabile fino a pochi forse anche fino a pochi anni fa ecco per cui mi fermo qua scusatemi forse sono stato un po' troppo lungo ma ci tenevo a darvi questo tipo di informazioni grazie grazie Roberto grazie tantissimo ovviamente ho un minuto posso dire prego prego voglio dire una cosa sulla faccenda del tracciamento del covid io ho cercato di dare un contributo a questa a questa operazione perché nel quando è apparsa la pandemia sono messo in contatto con dei colleghi a Singapore che avevano fatto la prima app di tracciamento per capire se era possibile riuscire ad utilizzarla o adattarla e parlato anche con l'ambasciatore italiano a Singapore eccetera in realtà quella soluzione non poteva funzionare in Italia perché richiedeva due cose uno di poter accedere ai dati sulla posizione sulla localizzazione GPS delle persone e secondo per la posizione tecnica del sistema operativo Apple che non consentiva di tenere acceso il bluetooth quando l'applicazione era non in uso era in background e quindi mi sono attivato partecipando a una serie di gruppi di lavoro uno dell'Università di Oxford che ha sviluppato un protocollo invece basato uno dei protocolli che poi è diventato quello utilizzato poi formalmente adattato da Apple e da Google che si basava su bluetooth e consentiva di garantire la totale anonimità dei dati e quindi ho mandato una proposta al Ministero di Innovazione e fece una call per proposte di soluzioni in cui proponevo due cose uno di usare una app basata su bluetooth per consentire di individuare potenziali rischi di contatto con infetti e secondo una seconda app da poter mettere a disposizione degli operatori sanitari anzi si parlava diciamo di costruire ex novo diciamo dei gruppi di volontari da assoldare per fare il tracciamento perché l'app non fa semplicemente altro che individuare possibili candidati di rischi di infezione il problema però bisogna tenere quelle persone che sono considerate rischio vanno seguite per capire con chi loro dove loro si sono mossi dove loro si stanno muovendo per ridurre per circoscrivere i focolai quindi il funzionamento del sistema sarebbe richiesto non soltanto individuare i possibili contatti ma poi il tracciare singolarmente le persone che a questo venivano individuati per circoscrivere i focolai questo era il principio di fondo non è stato fatto è stata fatta solo la prima cosa non la seconda come diceva poco fa Roberto senza una medicina territoriale c'è una presenza di territorio questa non funziona e così che la faccenda non ha funzionato come dovera bisognava appunto l'idea di fondo era quella di individuare rapidamente i possibili contagi e circoscriverli se non li circoscrivi abbiamo visto abbiamo il fenomeno esponenziale per cui da un contagio ne nascono dieci cento mille in pochi giorni e quando diventano mille non li controlli più non riesci più a tenere di occhi quando un anno un anno fa diciamo ad agosto avevamo soltanto poche centinaia di contagi se avessimo avuto un'app in funzione e tutti quelli che ricevono quelle segnalazioni venissero subito contattati avremmo potuto controllare la diffusione cosa che non è stata fatta e purtroppo diciamo la tecnologia non basta se non ci sono appunto gli interventi sociali e diciamo la presenza la partecipazione delle persone all'uso della tecnologia grazie grazie a tardi io direi mi sembra che abbiamo come dire chiuso in modo splendido questo modulo perché abbiamo aggiunto un tassello importantissimo alla nostra riflessione fra l'altro come è dato anche l'argomento che abbiamo toccato è un tassello che a sua volta trascina con sé ulteriori lavori di ricerca di riflessione assolutamente evidenti sia nelle corrette da tardi che nelle corrette da cornelli si aprono enormi campi su cui dobbiamo riuscire a ragionare a mettere a fuoco la cosa nell'incidente però devo dire è stato un straordinario contributo che abbiamo dato la riflessione io siete d'accordo chiuderei qui questo nostro incontro io chiuderei ringraziando tantissimo a tardi la sua disponibilità fra l'altro come dire non è neanche la prima volta quindi è un ringraziamento veramente molto molto profondo a tardi per questa disponibilità per questo dialogo che stiamo costruendo ringraziamento carissimo a Corneli il nostro appuntamento fra di noi però è molto presto stiamo lavorando per l'anno prossimo assieme che dobbiamo mettere a fuoco tante cose assieme nei prossimi giorni tra l'altro scusa Ferruccio ci vediamo anche presto in Casa della Cultura perché grazie a te presento anche per il tuo libro ci tenevo tantissimo perché in realtà è un modo per dare continuità alla discussione che abbiamo fatto oggi insomma gli argomenti sono di enorme rilevanza quindi sembrava giusto prendere questo impegno con te e grazie a tutti grazie a tutti per veramente aver seguito abbiamo ancora un ultimo modulo il giorno 14 15 e 16 maggio ci vedremo in quell'occasione per l'ultima parte del corso di quest'anno grazie a tutti e buona giornata grazie a voi arrivederci buona giornata arrivederci arrivederci a tardi ciao Ferruccio arrivederci a tutti ciao 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 a tutti